Musica Dopo tre giorni trascorsi su una cengia, è stato portato in salvo dai Vigili del Fuoco e Saf. È accaduto a Dusseglio, a sud di Pian Benot, a 2300 metri di altezza. Un cane, che sabato mattina era a passeggio in altura con i suoi padroni, rincorrendo alcuni caprioli, è finito su una cengia dove è rimasto, impossibilitato a muoversi fino al ritrovamento. I padroni da valle lo sentivano abbagliare ma non lo vedevano. Con tenacia, usando dei binocoli, ieri e martedì sono riusciti ad individuarlo. L'elicottero dei Vigili del Fuoco, che sorvolava la zona per trovarlo, aveva ricellato un Saf che ha recuperato il cane, riportandolo sano e salvo ai proprietari. Grazie a tutti. Grazie a tutti.